Dopo una fase di ascolto delle organizzazioni professionali, dei sindacati e soprattutto delle organizzazioni che seguono le vicende agricole, i presidenti dei consorsi di bonifica, abbiamo sviluppato un progetto di legge presentato oggi dai gruppi di centro-sinistra, considerata soprattutto la volontà della maggioranza, dell'assessore imprudente e del presidente Marsilio di continuare con il loro progetto, che è solo quello con il fine politico di commissariare e di far arrivare la politica esclusivamente all'interno dei governi e dei cinque consorsi di bonifica. Noi invece abbiamo sviluppato un progetto diverso che nasce dalle esigenze del mondo agricolo, che vuole riformare, che vuole sviluppare economie di scala, che vuole affidare ad un testo unico il governo e la gestione dei consorsi di bonifica, rispettando l'autogoverno e quindi l'autonomia degli agricoltori, affidando all'Associazione regionale delle bonifiche le funzioni associate destinate ai consorsi di bonifica e soprattutto vogliamo che si eviti il commissariamento dei cinque consorsi di bonifica. È proprio vero che la Giunta Marsilio pensa solo alle poltrone e in questo momento si è concentrato sul commissariare i consorsi di bonifica della Regione Abruzzo.